Musica Riforma della sanità veneta svolta in consiglio regionale, la maggioranza tenta al colpo di mano approvazione più vicina Non deve essere escluso dai territori scelti dal governo per ospitare un polo di ricerca e trasferimento della conoscenza Gli industriali scrivono a Renzi, calamità naturale per la ricostruzione, non contributi ma mutui con interessi da pagare Sveglia Veneti la denuncia del tributarista De Franceschi, la finanza scopre un migliaio di dichiarazioni dei redditi falsate per ottenere rimborsi IRPEF Non dovute, frodi da 3 milioni, 17enne di San Vendemiano annuncia di volersi togliere la vita e scappa di casa La polizia lo ritrova grazie alle foto su Facebook, contrattazione sociale, sindacato sempre più mediatore tra pensionati e denti che erogano servizi La CGL, forma di tutela, al museo di Santa Caterina terminati i lavori di adeguamento in vista della mostra di ottobre Goldin prenota anche il 2018 dopo aver entusiasmato il mondo alle Paralimpiadi La fiorecista moglianese posa per la campagna a favore del vaccino antimeningite Buonasera dalla redazione di TG Treviso Allora l'avete sentito, è più vicina finalmente l'approvazione in consiglio regionale della sospirata riforma della sanità veneta La maggioranza tenta il colpo di mano, sentiamo attraverso quale strumento nel nostro servizio di apertura La svolta tanto attesa è arrivata Con un tecnicismo la maggioranza ha superato l'ostruzionismo di PD, Movimento 5 Stelle e Tosiani Come Farenzi a Roma con il canguro, solo che in questo caso Dem e colleghi hanno parlato di mossa antidemocratica Insomma per il PD quello che si fa a Roma non si può fare qui in Veneto La reazione non sembra aver urtato più di tanto la maggioranza consapevole ora di poter portare in breve tempo la proposta su 9 ULS al voto Abbiamo proposto un emendamento modificativo dell'articolo 12 Diciamo che stiamo cercando di sbloccare la situazione perché i Veneti non ne possono più E il consiglio regionale è piegato a dei diktat che non hanno assolutamente senso Stiamo sfiorando il ridicolo a causa di un'opposizione che non ci vuole far votare Dopo tre mesi di discussione abbiamo applicato due nuovi articoli del regolamento Che prevedono alla maggioranza di presentare un emendamento che fa decadere gli emendamenti ostruzionistici dell'opposizione Non volevamo arrivare a questo ma purtroppo ci hanno portato su questa strada Le opposizioni sono messe di traverso, ci hanno dichiarato una guerra civile all'interno del consiglio regionale Ci hanno dichiarato che occuperanno l'aula Noi ovviamente siamo disposti ad andare avanti La legge e il regolamento è la nostra parte e quindi non mogliamo di un millimetro Con i tempi contingentati la discussione sarà molto più veloce Ci sono dei tempi di discussione e poi il presidente può decidere di mettere al voto determinati emendamenti Che fanno decadere gli emendamenti ostruzionistici dell'opposizione Riforma sanitaria che deve andare verso una responsabilità delle opposizioni a favore del processo di rinnovamento Soprattutto in considerazione del fatto che a breve scadranno le nomine dei direttori delle ULS Io sono sconcertata dal fatto che protestino Dovremmo essere noi a protestare Sono mesi che siamo in aula Lo siamo perché ci stanno ricattando Perché questo è il termine È la regione con la sua guida che deve decidere quante ULS Non possiamo essere ricattati dall'opposizione E vi ricordo che proprio alla Sanità Veneta è dedicato il nostro Tg Linea Aperta di queste settimane Chi sta affondando la Sanità Veneta ve lo chiediamo come spunto di riflessione Anche a voi naturalmente Continuate a scriverci i vostri messaggi Come sempre i numeri e gli indirizzi che vedete in sovra in pressione Andranno in onda come stasera al termine del nostro telegiornale Le sedi di Confindustria di Padova, Treviso e Vicenza Hanno scritto oggi una lettera al Premier Matteo Renzi E ai Ministri Carlo Calenda e Piercarlo Padoan Chiedendo loro alla vigilia della presentazione del Piano Italia 4.0 Che il programma includa il Veneto e il Nord-Est Tra i territori individuati per un Competence Center Questo anche perché scrivono i Presidenti Massimo Finco, Maria Cristina Piovesana e Luciano Vescovi L'Università di Padova è in possesso dei rating di eccellenza E delle caratteristiche di un Politecnico Una decisione diversa che escludesse il Veneto e il Nord-Est Sottolineano le organizzazioni degli industriali delle tre province Verrebbe percepita come una incomprensibile svista E risulterebbe fortemente penalizzante Per il contributo di quest'area Al rilancio strutturale dell'economia del nostro Paese Ora andiamo insieme a rivedere un estratto di sveglia veneti di questa mattina In cui il tributarista Alberto De Franceschi Lo conoscete bene come ospite di Rete Veneta Denuncia quella che chiama l'ennesima beffa Per i rimborsi per le popolazioni devastate dal tornado della riviera del Brenta Ma questo varrà anche per le altre calamità naturali in giro per l'Italia Ecco, la finanziaria ha previsto non contributi veri e propri Ma di fatto dei mutui con interessi Quando poi tu metti che il contributo me lo tratti come un mutuo E cioè costringi queste persone a fare un mutuo per avere un contributo Devi vergognarti Altro che contributi a chi si è trovato la casa devastata dal tornado A sveglia veneti il tributarista Alberto De Franceschi Lancia l'allarme alle popolazioni della riviera del Brenta Di fatto devono accendere un mutuo per ottenere il contributo statale Lo stabilisce la legge finanziaria 2016 Attenzione quindi a leggere bene le carte prima di firmare qualsiasi cosa Non si può chiedere a una persona che è una vittima di una calamità di fare un mutuo Non si può, si devono dare i soldi in qualche maniera Non di dirgli ti faccio un mutuo e ti do un credito d'imposta È vergognoso, è un giorno triste questo qui È un giorno triste perché fare questo vuol dire togliere la dignità di queste persone Questa norma naturalmente vale per tutte le vittime di disastri naturali Anche i terremotati del centro Italia Impensabile, secondo De Franceschi, chiedere gli interessi a gente che non ha più nulla Ci sono pensionati a 500 euro Come pagano le rate? Con cosa? Con la pensione? Famiglie in monoreddito con due figli Che non hanno nessuna capienza fiscale Non possono chiedere i soldi a rimborso E quindi devono aspettare 8 anni Ma vergognatevi! E poi abbiamo fatto dei conti perché volevamo capire Chi è realmente l'agevolato? Il soggetto che guadagna 150.000 euro l'anno Ma per cortesia Come perché questo ha una capienza fiscale Che gli permette immediatamente di avere i 10.000 euro, i 15.000 euro l'anno che spende di rate Tu non paghi la rata, ti pignolo la casa Cioè, ma siamo allucinati da una cosa del genere I parlamentari devono rispondere di questa vergogna Attacca il tributarista Ma come puntualmente succede nel nostro paese Nessuno si prende la responsabilità di questa ennesima beffa È stata allertata la classe politica che in questo momento cade dal pero, dico io Cioè, come non ti sei accorta? Hai firmato una cosa del genere Ma è assurda una cosa del genere È assurda Mi vergogno di essere un cittadino italiano Con una classe politica che firma una schifezza del genere Multiamo pagina La vittoria in provincia del sindaco leghista Stefano Marcon Ha coinciso domenica con la giornata a Pontida del Carroccio Che si è stretto attorno al suo leader Matteo Salvini Ieri da Treviso l'ex segretario nazionale Gian Paolo Gobbo Aveva detto la Lega è tornata Una leadership che non si discute Anche secondo il consigliere regionale trevigiano Riccardo Barbisan Per il quale non avere più come priorità la secessione Non significa però rinunciare alle istanze del nord Vuol dire rinunciare alle istanze del nord Vuol dire che oggi ci sono altre priorità Dobbiamo liberarci dalla gabbia di Bruxelles E la secessione rimane sempre l'orizzonte ultimo E il desiderio più profondo di ogni vero leghista Ma oggi la secessione non ha senso Se prima non iniziamo a seccedere da Bruxelles Per il resto ho visto una Lega in salute Una Lega di lotta che vuole diventare Lega di governo Abbiamo presentato molti punti programmatici Io penso che quella dell'elezione dei giudici da parte del popolo Sia una delle più pregnanti Veniamo alla cronaca perché la Guardia di Finanza di Treviso Ha fatto venire a galla una frode ai danni dello Stato Da 3 milioni di euro Scoprendo un migliaio, quasi un migliaio Di dichiarazioni dei redditi con dati falsi Presentati da cittadini stranieri Quasi mille dichiarazioni dei redditi contenenti dati falsi Per ottenere crediti IRPEF La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato All'autorità giudiziaria 66 persone In debite percezioni di erogazioni a danno dello Stato L'accusa a loro carico 2 milioni di euro l'importo liquidato dal 2012 A soggetti stranieri che riuscivano a inoltrare Le dichiarazioni infedeli grazie al responsabile Di un CAF nel bolognese Che in cambio di una percentuale sul rimborso 4-500 euro per volta agevolava l'iter delle pratiche Aggirando il controllo automatizzato delle dichiarazioni stesse In totale il soggetto denunciato per truffa ai danni dello Stato Avrebbe percepito nelle due annualità Circa 4-500 mila euro Immigrati irregolari sul suolo nazionale Arrivavano da tutta Italia Per affidarsi al centro di assistenza fiscale bolognese Il sistema consisteva proprio in questo Di inserire nelle dichiarazioni dei redditi Dei familiari a carico anche inesistenti Dei figli in affido inesistenti Molto spesso indicando delle disabilità inesistenti Ed ottenendo così il 100% della detrazione Percepivano il rimborso E sì, poi sparivano dalla circolazione Ritornando nei paesi d'origine O comunque allo Stato Molti di questi risultano irreperibili L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna Attraverso perquisizioni Esame della documentazione fiscale E amministrativo contabile Raccolta di testimonianze Ha permesso di ottenere l'annullamento Di ulteriori 300 modelli 7,30 Da poco presentati Che avrebbero fruttato complessivamente Agli intestatari Un altro milione di euro Anche in questo caso Crediti IRPEF Che in realtà non spettavano E che in questo modo Non saranno liquidati L'operazione è la conferma Dell'impegno del Comando Provinciale Della Guardia di Finanza di Treviso A contrasto degli illeciti In materia di spesa pubblica La Procura ha infine ottenuto Il sequestro preventivo Della sede del centro direzionale Che il responsabile CAF Ritenuto il vero ideatore Della frode Utilizzava per portare avanti L'attività illegale Ritrovato grazie a Facebook Un minorenne Fuggito dalla famiglia A San Vendemiano Aveva annunciato Di volersi togliere la vita Ed era poi scappato di casa Un diciassettenne di San Vendemiano Di origini cinesi E' stato rintracciato Degli agenti del commissariato Di polizia di Conegliano Nel Bellunese Il minorenne è stato raggiunto Grazie ad alcune foto Postate su Facebook Che hanno permesso alla polizia Di capire dove si trovava I familiari Si erano presentati I commissariato Ieri sera alle 22.30 Denunciando la scomparsa Del ragazzo Gli agenti hanno riconosciuto Il paesaggio dalle foto L'area attrezzata Di L'Imbioi Beach Lungo il Piave E lì In una tenda da campeggio Hanno ritrovato Il diciassettenne E' sano e salvo A Trevignano invece Vigili del Fuoco Impegnati per un principio Di incendio Alla sede di Veneto Banca Fiamme nella sede di Veneto Banca Signoressa di Trevignano Lungo la Feltrina Il rogo A causa di un corto circuito Dell'unità di continuità Dei computer Dell'Istituto di Credito Il fatto Ieri sera Dopo le 20 Sul posto Diverse squadre Di Vigili del Fuoco La densa e alta Colonna di fumo nero Alzarsi dalla banca Con l'aria diventata Nell'arco di poco tempo Irrespirabile Ha reso necessario L'intervento Di Vigili del Fuoco Con le maschere Antifumo Sul posto Anche i carabinieri Danni alla struttura E da quantificare Una donna Questa mattina Rimasta seriamente Ferita In un incidente A Cessalto E' stata trasportata In elicottero Al Caffoncello Sono gravi Le condizioni Di una 45enne Di Musile di Piave Che questa mattina Alle 8 In via Calnova A Cessalto Ha improvvisamente Perso il controllo Della sua auto Finendo contro un platano Sul posto Sono intervenuti Vigili del Fuoco Di Treviso In moto a Dilevenza Suem E la polizia stradale Di Treviso La conducente Dell'auto E' stata trasportata In elisoccorso Al Caffoncello Dove è stata dichiarata Fuori pericolo Quanto al traffico La circolazione E' rimasta a lungo bloccata Per consentire Le operazioni di soccorso Dopo le ultime Tre morti Sul lavoro In tutta Italia Domani Sciopero nazionale Dei metalmeccanici Anche nella marca Come nel resto d'Italia Domani Sciopero dei metalmeccanici Contro morti E infortuni Sul lavoro I tre sindacati Hanno indetto Unitariamente La mobilitazione Disponendo Un'ora di estensione Dal lavoro A finiturno Basta morire sul lavoro Dicono Riferendosi ai tre episodi Dell'ultima settimana Il diritto alla vita Di un lavoratore E' un ben assoluto Che nessuno Può cancellare In sette mesi Da gennaio a luglio In Veneto Si sono registrati 65 morti sul lavoro Ma tra agosto E metà settembre Il numero è salito ancora E ben 44.149 infortuni Con una crescita Di quasi un migliaio Rispetto allo stesso periodo Del 2015 Continuiamo a parlare Di lavoro Con i sindacati E anche di chi Al lavoro Non è più I pensionati Ecco Il sindacato Svolge sempre più Un ruolo di mediatore Proprio tra gli anziani E gli enti Del territorio Contrattazione sociale A favore di tutti E in particolare Delle classi meno abbienti Con i pensionati In testa Il punto Del sindacato Trevigiano Con la CGL Per i risultati Ottenuti Ad esempio Con gli sconti In bolletta A cominciare dall'acqua Gas E rifiuti Avviate oramai Da tempo Con le ex Municipalizzate Con i previsti Scaglioni Differenziati Per gli utenti In base All'ISEE L'indicatore Di ricchezza L'obiettivo È quello Di continuare Sempre più A rappresentare Meglio La nostra base I lavoratori Pensionati Ma riuscire In qualche modo A avere anche Un ruolo All'interno Di quello Che è lo sviluppo Del nostro territorio In una fase Difficile come questa Quindi noi Attraverso Le nostre elaborazioni Vogliamo in qualche modo Migliorare la vita Delle persone Attraverso le istituzioni Le US Le società partecipate Tutto il resto Tutelare i cittadini Oltre che nei luoghi di lavoro Anche nel quotidiano E nella vita Di ogni giorno A cominciare dal welfare Legato ai problemi Di invecchiamento Della popolazione Tra i temi Portati avanti Dal sindacato Dove c'è lavoro Dove c'è un lavoratore Dove c'è un pensionato Il sindacato È giusto che ci sia E provi a tutelarli Ovviamente Come sempre Provare a tutelarli Tenendo conto Dell'insieme Per cui attraverso Un sistema Di solidarietà Tra soggetti forti E deboli Che esistono Anche nel territorio Molto lavoro C'è ancora da fare Con Treviso Che per il numero Di accordi raggiunti Si piazza Tra i primi posti Nelle province venete La contrattazione sociale La contrattazione sociale Che si fa Nel Trevisiano È una pratica Di alto spessore valoriale In cui credono Non solo gli interni Ma anche i soggetti esterni Che abbiamo Intervistato Quindi i sindaci I rappresentanti Di case di riposo E società partecipate Torniamo nel capoluogo In centro città Perché oggi Sono stati presentati I lavori Di adeguamento Del museo Di Santa Caterina In vista Delle mostre Di ottobre E tra l'altro Notizia ufficializzata Oggi Dovrebbe essercene Una importante Anche nel 2018 I restauri Completati Del museo Di Santa Caterina Per accogliere Oltre l'attesa mostra Sugli impressionisti Di fine ottobre Corrente Anche la replica Con l'esposizione Del 2018 Sembrerebbe Già in calendario L'inaspettato annuncio Proprio in occasione Della presentazione Alla stampa Della conclusione Dei lavori Sì Stiamo dialogando Con sindaco E amministrazione Per poter Fare una seconda Mostra Dunque Potrebbe iniziare A febbraio Del 2018 La conferma Anche da parte Dell'amministrazione Comunale Con il primo cittadino Che però Forse vista La recentissima esperienza Con la provincia Preferisce la cautela Ecco Ma a me Ultimamente piace dire Le cose a giochi fatti Diciamo che stiamo Lavorando In modo molto forte Per andare avanti insieme Un intervento Questo tra pubblico E privato Con i 700 mila euro Sostenuti in gran parte Dallo stesso curatore Per gli interventi Di messa in sicurezza Del sistema elettrico E di climatizzazione Per ospitare Con le permanenti Sia le opere Della pinacoteca civica Che la rassegna Sugli impressionisti La cultura La cultura è un volano Di turismo Di rinascimento economico Di sviluppo E il bailo Santa Caterina Sono dei luoghi fondamentali Da cui avere un volano Di rinascimento economico L'apertura della mostra Anticipata A venerdì 28 ottobre Dalle ore 20 Terminata l'inaugurazione ufficiale Apriremo al pubblico Con biglietto ridotto E apriremo fino a luna della notte Ricavato anche uno spazio Dedicato al trentesimo anniversario Della morte di Goffredo Parise Con un'esposizione di racconti In pittura Ispirati ai suoi sillabari Bebevio È davvero il caso di dirlo Non si ferma mai Perché dopo aver entusiasmato Il mondo Alle paralimpiadi La fiorettista moglianese Posa per la campagna A favore del vaccino Contro la meningite Le sue medaglie Alle paralimpiadi di Rio Hanno emozionato l'Italia E il mondo La sua grinta Urlata all'ultima stoccata Quella per l'oro Del fioretto individuale Quella per il bronzo Nella gara a squadre È la stessa Che ora Beatrice Bebevio La 19enne schermitrice di Mogliano Ha deciso di impiegare Ora in un'altra sfida Convincere i genitori A vaccinare i propri figli Contro la meningite La malattia Che a lei Ragazzina di appena 11 anni Ha fatto rischiare la vita E che le è costata Le braccia e le gambe Salvo poi avere la forza Per ricominciare Determinazione E dolcezza Nelle foto Della campagna mondiale Vinci per la meningite In cui Bebe Mostra i suoi arti Senza protesi E tiene in braccio Un bimbo Non potrebbe esserci Testimoni al migliore di lei Che quella malattia L'ha vissuta In prima persona E che nel mondo Continua a mietere vittime Di contro Sempre più genitori Guardano ai vaccini Con sospetto Da qui La nuova campagna Solidale A difesa dei più piccoli E a sostegno Della prevenzione In foto Non solo la giovane Trevigiana Ma sportivi Paralimpici Di tutto il mondo Campioni di atletica E ciclismo Reduci dalla meningite Che li ha colpiti In tenera età Lasciando su di loro Conseguenze più o meno Visibili Corpi provati Dalla malattia Ma in volto La forza E la speranza E la riabilitazione Il recupero Passa proprio Attraverso lo sport Con il progetto Che è in corso A Motta di Livenza 50 ragazzi disabili Affetti da cerebrolesioni E malattie cardiovascolari Eseguiti per le cure Dai sanitari Della ULS E dell'ospedale Riabilitativo Ad alta specializzazione Di Motta Che grazie ad un'importante Collaborazione Con il comitato Italiano Paralimpico Potranno seguire Percorsi di riabilitazione Di natura sportiva La convenzione Funziona Che il primario E gli operatori Che seguono I mielolesi I gravi cerebrolesi Individono i pazienti Che hanno appunto Una residua capacità Tale da poter Intraprendere Un'attività sportiva Si mettono in contatto Con il comitato Paralimpico Che manda un tecnico E vede appunto Quale sport Può essere più utile Per il paziente E proprio da Motta Parte la richiesta Del CIP Veneto Al comitato Paralimpico Al CONI Con i cinque cerchi Rivogliamo ripristinata Anche la scomparsa O I simboli olimpici Devono essere uguali Per tutti Dice il presidente regionale Beh sarebbe bello E' una cosa Che mi piacerebbe tanto Perché quando Ci hanno tolto Appunto la O E i cinque cerchi Ne ho sofferto Un po' E' passato qualche anno Però Anche se sarà Un sogno Questo Ma a me piacerebbe tanto Ripeto Che anziché essere Paralimpici Essere Paralimpici E anziché avere Le agitos Che comunque vanno bene Ormai ci siamo abituati Anche a questo logo Ovviamente Ma avere i cinque continenti Cioè i cinque cerchi Del coni Sempre puntati Sull'attualità I riflettori Di focus Stasera Dalle 21.05 In studio Col direttore Luigi Baccialli Gli ospiti Graziano Azzalin Matteo Tosetto Bruno Augustin Breda Ivan Palasgo Gabriele Donadel Stefano Marrone Alfredo Giaccon Come al solito Ampio spazio Ai vostri SMS E' tutto Grazie per essere stati Con noi Tg Treviso Torna domani sera Vi auguro Una buona sera In compagnia dei programmi Direte Veneta Arrivederci In compagnia dei programmi Grazie a tutti.